Impronte nasce nel 2005. L'idea della cooperativa era quella di lavorare insieme sul tema delle rinnovabili del risparmio energetico in una maniera diversa ci piaceva lavorare come partner come soci come collaboratori e quindi la cooperativa è stata la soluzione ideale quella che ci ha spinto più di tutto dal 2005 abbiamo iniziato a crescere con il fotovoltaico in particolare poi tutto il tema delle rinnovabili che in italia è esploso e verso il 2007 2008 la cooperativa ha iniziato a crescere in maniera importante ed è nata l'esigenza di costruirci o di trovare nuovi uffici e poi in realtà pian piano l'esigenza del territorio di riquarificare di rigenerare spazi invece più importanti e abbandonati si è concretizzata in una progettazione partecipata una condivisione con il territorio sempre crescente con tanto entusiasmo ha portato a noi tantissime idee e grazie alla collaborazione con tanti partner locali e alla nostra struttura di ingegneria abbiamo sviluppato il progetto che oggi è il parco di innovazione Chireco dal percorso di progettazione partecipata è nata l'idea di realizzare qualcosa per la città quindi abbiamo promosso un progetto con la normativa del project financing quindi abbiamo fatto uno studio di fattibilità e da lì è partito un cantiere per la realizzazione di questo parco 15.000 metri quadrati 600 metri quadrati di struttura in bioedilizia siamo già in classe a 4 quando avremo la nuova normativa sull'efficienza energetica abbiamo realizzato un modello di business ibrido dove il privato sociale e le imprese collaborano per costruire progetti quindi da percorsi di mobilità sostenibile a agricoltura sinergica progetti europei fonti rinnovabili la struttura e ha delle performance molto molto elevate sia in termini di riscaldamento efficienza e coibentazione e la città sta rispondendo molto bene abbiamo continuamente sollecitazioni da cittadini per sviluppare nuovi progetti e la sala il bar il ristorante sono dei punti di ritrovo ma anche dei punti di creazione di nuovi progetti sociali a vantaggio delle imprese e dei cittadini da qui è nato il parco il parco oggi presenta progetti e sviluppi importanti stiamo cercando di costruire di portare a Ravenna l'innovazione sociale abbiamo costituito una cooperativa sociale che è un po il nostro spin off e si occupa per noi e con noi di tanti altri progetti di sviluppo del territorio in particolare stiamo cercando di aggregare l'innovazione ravennate e di canalizzarla verso la costruzione di una città più accogliente più forte più innovativa grazie a tutti grazie a tutti